Questo muro di cemento alle mie spalle sta a significare tante cose per la nostra città, innanzitutto che le aree di corso martiri della libertà sono state completamente sgomberate, con un presidio leggero così come è voluto all'amministrazione comunale per accompagnare i 90 e più occupanti di queste zone verso luoghi più adatti alle loro esigenze. Poi questo muro significa che forse finalmente una ferita aperta da tanti anni a Catania può essere se non sanata comunque già curata. Stiamo parlando di un'area, quella di corso martiri della libertà che per 60 anni è stata completamente lasciata all'abbandono più totale con lo sgombero e poi con la pulizia delle aree al loro interno e forse come diciamo questa ferita può essere sanata. E questi muri di cemento che vedete alle mie spalle sono appunto stati costruiti per evitare che nuovi insediamenti si possano creare all'interno di queste zone. Nei prossimi giorni ci sarà l'ingresso in quell'area degradata, devastata, come si può vedere, basta guardare dall'alto, dei mezzi che dovranno eliminare tonnellate di rifiuti. Avverranno attraverso la raccolta differenziata, sarà fatta opera dei privati perché è competenza loro. Noi come comune assisteremo e faremo tutta l'assistenza possibile perché la differenziata venga fatta, dopodiché io non so quanto tempo impiegheranno, una settimana, dieci giorni, dopodiché l'impresa inizierà i lavori di recinzione e già abbiamo un accordo con l'Istituto, l'Accademia delle Belle Arti perché la recinzione, i lavori dureranno tre anni. Durano tre anni non sia un fatto soltanto brutto ma anche architettonico per cui è colorato e già si sta facendo un concorso in questo senso, dopodiché inizierà il carotaggio. Stiamo parlando di cose a settimana, quindi a giorni data da qui a qualche settimana, i carotaggi che sono indispensabili per avviare l'operazione di costruzione. La situazione attuale è che tutte le 90 persone che erano là dentro sono state distribuite a seconda delle destinazioni che hanno preferito. Una quarantina sono tornate in Bulgaria, una trentina sono in alloggi, in abitazioni, cinque sono con contratti lavorativi e alloggiano presso i proprietari, i datori lavoro, due o tre si sono allontanate, erano Rom e girano per fatti loro. La giornata di oggi è per il presidio leggero perché un risultato di questo genere è un risultato che Catania deve a Catania ed è questo importante che si capisca. Il finanziamento di questa operazione è stato un finanziamento fatto dai catanesi, le attività del presidio sono attività fatte dalle associazioni, il Comune ha avuto il ruolo di organizzatore di questa sinergia e di garanzia insieme al centro servizio del volontariato della raccolta di questi fondi e della loro destinazione e della loro puntuale rendicontazione.